A soggettare le indennità ai servizi all'ise familiare è un provvedimento ingiusto. Significa mandare sull'astrico migliaia di famiglie, significa obbligare le famiglie a rinunciare ad assistere in caso ai propri congiunti sfortunati e seppur a malincuore a doverli ricoverare presso strutture pubbliche, aumentando la sofferenza e i disagi di tutta la famiglia e i costi collettivi. Un provvedimento da sprovveduti. Un'esegrazione, un orrore, una ripugnanza nauseabonda, decisamente insopportabile, intollerabile, inaccettabile. Nicoletta, se penso che queste leggi vengono fatte da persone che non sono disposte a rinunciare neppure ad uno dei loro numerosi privilegi, che vergogna. Mario, inserire le indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità per i disabili gravi e gravissimi nell'ise è una contraddizione per lo stesso significato dato al momento dell'istituzione di tali emolumenti. L'Italia, inoltre, non assicura ad alcun disabile la rimozione delle barriere che penalizzano sia la nostra già effime resistenza, ma perfino la nostra capacità di programmare e progettare quel minimo che possa permetterci di sopravvivere. Luca, il grado di civiltà di una comunità si misura dal rispetto e dalla tutela di questa verso i suoi componenti più deboli e disagiati. Non c'è più debole o disagiata che una persona disabile, perché in molti casi impossibilità da svolgere i gesti quotidiani della propria vita in modo autonomo. Questa tutela si ottiene con tutte quelle normative direttamente discendenti dall'articolo 3 della Costituzione italiana per l'integrazione delle persone disabili, che non sono solo bimbi o anziani, né tantomeno sportivi o artisti. Non abbiamo, in quanto disabile anch'io, bisogno di lemosina, perché siamo cittadini con pari dignità e diritti. Grazie. È iscritta a parlare l'onorevole Baldelli, ne ha facoltà, che illustra anche la mozione 1.198 di cui è cofirmatario. La ringrazio, Presidente. Io illustro la mozione di cui sono cofirmatario, che è un contributo che il gruppo di Forza Italia ha voluto offrire alla discussione di questo tema così rilevante. Siamo di fronte alla sentenza del Consiglio di Stato del 29 febbraio 2016, che riguarda un tema assai delicato ed importante. Il tema è stato affrontato anche nelle sedi parlamentari, nel corso dell'esame della legge di stabilità. È stato affrontato in una question time che reca la prima firma dell'onorevole Sandra Savino, prima firmataria anche della mozione che oggi Forza Italia ha depositato e che sarà all'attenzione dell'Assemblea nella fase del seguito della discussione delle mozioni, in cui avremo il parere del Governo e voteremo sui dispositivi che impegnano al Governo su questa vicenda. Si tratta di stabilire un principio giusto ed equo, cioè quello di fare in modo che non siano incluse all'interno dell'Isee, e dell'Isee, cioè dell'indice della situazione economica equivalente, provvedimenti... Il Consiglio di Stato non sono retribuzioni, sono trattamenti di sostegno, sono trattamenti di assistenza, sono esenti da imposizioni fiscali, non concorrono a determinare il reddito. E' ovvio che, quindi indenità di accompagnamento pensioni IMS per le persone disabili, che prima erano state incluse a seguito di una valutazione successiva al DPCM che è stato emanato nel 2015, all'interno di tutte quelle voci che sommate davano come risultato l'indicatore, è evidente che ci siamo trovati di fronte a una situazione di disparità. Peccato, io dico, che questa discussione sia giunta soltanto a seguito della sentenza definitiva del Consiglio di Stato. Forse la politica ha il dovere di arrivare prima su questi appuntamenti, su queste battaglie. Probabilmente era più utile riuscire a capire ed acquisire prima il segnale che giungeva dai tanti tribunali, dalle diverse sentenze che il Tribunale amministrativo del Lazio, ad esempio, aveva pronunciato su questo argomento, su questo tema. E che chiaramente davano un quadro chiaro di quella che avrebbe dovuto essere l'interpretazione di questa norma. Anche in relazione, per esempio, alla differenza di franchigia tra i disabili minori di età e i disabili maggiorenni, altro trattamento, diciamo così, iniquo o non eco, in qualche misura, tra chi soffre della stessa inabilità. Il principio qual è? Il principio è che non sono redditi, non sono rendite per cui si retribuisce la disabilità, sono compensazioni, sono trattamenti di sostegno che lo Stato, nella sua veste più solidale, offre a coloro che, proprio perché portatori di un handicap e di una inabilità, sono limitati nella loro possibilità di, nelle diverse possibilità, nelle diverse occasioni di poter produrre reddito. Ed è per questo, ed è questo alla base del principio giuridico, per cui questo tipo di somme non può essere computato nell'indicatore della situazione economica equivalente. Ed è per questo che oggi siamo qui. Quindi la mozione di Forza Italia chiede sostanzialmente tre cose. Chiede che si faccia una stima della ripercussione in termini di finanza pubblica, di bilancio, delle conseguenze di questa sentenza. Qual è l'impatto che si ha? Come si intende dare ristoro con interventi compensativi o risarcitori a quelli che sino ad oggi sono stati danneggiati da questa normativa, evidentemente. E poi la mozione di Forza Italia chiede anche interventi con gli strumenti tributari disponibili, quindi detrazioni o deduzioni, nei confronti dei portatori di handicap, delle famiglie con portatori di handicap. Io credo che questa debba essere una discussione il più possibile serena. Ripeto, è stata oggetto anche di question time in commissione, di analisi, di dibattito anche in questa assemblea in sede di legge di approvazione, di legge di stabilità. Credo che si possa trovare, si debba trovare una soluzione, seppur nella complessità di un meccanismo come quello dell'Ese, che lascia aperti ancora tanti punti interrogativi, poi in ordine alla complessità. E anche la dichiarazione sostitutiva, tra l'altro, su cui ci sono dei dati che ci fanno pensare che questo fenomeno, questo meccanismo riguardi un quarto del totale. La dichiarazione sostitutiva unica, che interessa 4 milioni e 800 mila persone, sembra che a seguito di questa sentenza probabilmente un quarto di queste persone dovranno rivedere, in senso positivo, cioè avendo qualche misura diritto a qualche forma di compensazione questa dichiarazione sostitutiva unica. Io credo che il Governo, per un verso, debba monitorare, per l'altro provvedere a fare in modo che chi è stato danneggiato da una norma che viene poi bocciata dal Tribunale.